ciao amici ben tornati sul mio canale nel video di oggi andremo a vedere questa stampante ma questa stampante io non la utilizzerò come una comune stampante ovvero come la vedete qui che una stampante oggetto d'inchiostro no perché io la trasformerò in una stampante da sublimazione come vi avevo già spiegato in un altro video che cos'è la sublimazione e quindi come poterla come poter creare dei prodotti sublimati e nel video vi dicevo appunto di prendere una stampante nuova una stampante tipo queste qua con eco tank che sono praticamente quelle stampanti dove hanno i contenitori che poi devono essere ricaricati qui dalla foto già lo vedete ci sono questi contenitori che con poi appunto questi barattolini vengono presi e vengono ricaricati ma adesso vediamo meglio in dettaglio come fare e quindi come trasformarla in una stampante la sublimazione qui nella scatola intanto possiamo vedere le caratteristiche di questa stampante io ho scelto questa perché perché nel momento dell'acquisto era quella in offerta ed era adatta per lo scopo che dovevo fare perché appunto aveva questi serbatoi ma non è detto dovete per forza prendere questo modello l'importante che ha i serbatoi questa a diverse funzioni ma a me principalmente serve solo per stampare quindi poi le altre funzioni non sicuramente non le andrò a utilizzare si collega tramite wifi sia al computer che anche con appunto il cellulare perché ha una sua applicazione da dove noi poi possiamo comandare tutte le funzioni della stampante ma adesso con l'aiuto del nostro strumento preferito andiamo ad aprirla ok allora all'interno troviamo troviamo le istruzioni troviamo vediamo un po il cavo troviamo le cartucce quindi gli inchiostri che ci danno gli inchiostri che ci danno in dotazione però questi inchiostri io non li andrò utilizzare quindi queste qui adesso io le andrò a mettere via perché non ci servono andremo utilizzare queste altre che ho acquistato eccole qua che sono queste fatte così ok adesso mettiamo via queste e continuiamo ad aprire la nostra confezione ed eccola qua la nostra bellissima stampante queste le metto davanti abbiamo dalla busta qui sopra abbiamo altre istruzioni allora queste istruzioni ci dicono ovviamente di togliere tutti questi cosini azzurri che vediamo qui e poi dopo aver levato quelli bisognerà vediamo aprire questo credo ok e poi si può aprire questo qua sopra al coperchio vabbè ok seguiamo intanto queste istruzioni quindi adesso andrò a togliere tutti questi così al celestini quindi tutti questi pezzetti di scotch celeste ok allora ho tolto quindi tutti quei pezzetti di scotch celesti adesso quello vi volevo far notare sono questi questi qui sono i tubicini che partono dal colore entrano qui dentro e vanno sui tubicini quindi noi adesso dovremmo andare a riempire questi serbatoi apriamo quindi questi coperchietti qua sopra e riempiamo i nostri serbatoi e poi dopo la macchina riempirà tutti questi dubicini perché attualmente sono dei tubicini diciamo vuoti vergini quindi non sono mai stati utilizzati appunto con nessun inchiostro e quindi possiamo fare la nostra trasformazione ma prima di fare questa operazione prendo l'altro foglietto di appunto delle spiegazioni per vedere bene tutti i passaggi da fare qui dentro abbiamo il cd che serve per caricarlo sul computer però il mio computer non ha il lettore dvd cd insomma quindi alla fine dovrò fare in modo diverso poi vi farò vedere se no altrimenti mettete quello e installerà già automaticamente la macchina poi vabbè qui sono altre informazioni anche insomma la garanzia cosa copre eccetera e qui abbiamo il nostro libricino si questo è in italiano dove ci spiega passo passo quindi sia quello che troviamo all'interno che appunto quello che dobbiamo andare a fare adesso qui dice di inserire quindi la presa alla macchina il cavo è questo insomma così il classico cavetto che ci viene dato in dotazione il cavo va inserito qui dietro e poi alla presa ovviamente ok il passo successivo è quello di scaricarsi l'app e una volta che vi siete scaricati l'app il libricino dice che dobbiamo schiacciare il pulsante di accensione ok adesso basterà seguire insomma tutte le istruzioni dobbiamo cercare il modello della nostra stampante quindi sull'app questo abbiamo detto che è la et 28 11 quindi qui sull'app la cerchiamo 28 11 ok e la selezioniamo ok otteniamo quindi adesso la ci scarichiamo ok ci andiamo a scaricare quindi la nostra applicazione ok facciamo accetta ok consentiamo solo una volta la posizione allora qui possiamo anche utilizzare il bluetooth per collegarci alla stampante e queste sono tutte le applicazioni della stampante invece per quanto riguarda le istruzioni qui ci dice quindi come fare creiamo una nuova connessione wifi ok continua ok si guarda che il prodotto sia acceso sia oppure ci sia il cavo usb andiamo successivo perché l'abbiamo già accesa ok la trovata attendiamo ok adesso dice ci do preparare che ci dà le informazioni quindi come ricaricare i nostri serbatoi facciamo continua quindi diremo passo passo e va bene prima di iniziare assicurarsi che i serbatoi di questi siano regolari rimanere davanti alla stampante non spengere la stampante durante la configurazione ok ci richiede un'altra volta la posizione ok e ora è possibile preparare la stampante scorrere lo schermo ok iniziamo con l'inchiostro quindi aprire il coperchio e lo apriamo preparare l'inchiostro iniziando con il nero aprire il tappeto ok aspettate che vi sposto un pochino più su così che vedete la parte superiore per inserire appunto il nostro inchiostro ok allora adesso quello che ci viene detto quindi è di aprire questa parte perché questo è il colore nero noi andiamo aprire quindi questo aspettate forse ok così lo vedete meglio qui sotto ci sono delle lineette quando arriverà l'ultima lineetta l'inchiostro si fermerà automaticamente quindi non abbiamo problemi o preoccupazioni che magari l'inchiostro possa uscire quindi andiamo a fare questa operazione aspettate ok appoggio un pochino più indietro così vedere man mano come salirà poi il livello dell'inchiostro svito il tappo e devo fare nient'altro che inserire quindi vedete queste due questi due pezzi di plastica che sono qui qui all'interno siete diciamo in un certo senso obbligati non avete problemi di ok e questo dovrebbe scendere sta andando si sente anche il rumore da qui vedete il livello man mano che sta salendo dell'inchiostro dice che ci vuole un pochino di tempo quindi attendiamo che finisce di riempirlo ok è arrivata alla lineetta quindi l'inchiostro ha finito di scendere si è affermata adesso lo togliamo e andiamo a sigillarlo qui dice che potrebbe rimanere un pochino di inchiostro l'inchiostro che rimane poi di conservarcelo per il futuro perché poi ci servirà in futuro adesso andiamo a riempire le altre mettiamo il giallo e adesso andrò a fare questa operazione diciamo che tutti quanti i colori ci vediamo una volta che ho terminato questa questo passaggio quindi riempito tutto andiamo a chiudere il nostro coperchio nel boccettine sono rimasta un pochino di inchiostro questo inchiostro che è rimasto ce lo teniamo e poi per riboccare potete riutilizzarlo tranquillamente l'importante è che le boccette le lasciate in verticale ok adesso la macchina andrà a caricare vedete tutti i tubicini del nostro serbatoio quindi inizierà a fare questa operazione un pochino rumorosa allora che dice che questa operazione si occorrono circa 11 minuti quindi ci vediamo quando ha concluso di riempire tutti i tubicini allora da qui potete vedere che qui sta lampeggiando quindi sta continuando la sua operazione di ricarica dei tubicini e anche da qui vedete che dove è disegnata la gucciolina quindi che indica l'inchiostro sta lampeggiando mentre fa questa operazione possiamo connettere la nostra stampante al nostro wifi quindi in questo momento io ho digitato ok qui sullo schermino dove appunto mi dà le indicazioni così da poter connettere lei al wifi ok adesso che ha trovato il mio wifi io ho digitato sì devo adesso inserire la password del wifi allora ha completato il riempimento dei tubicini qui notiamo che l'inchiostro è anche un pochino sceso perché adesso quello che manca qui è tutto quello che è entrato all'interno di questi tubicini che vedete qua ho anche completato la connessione tra appunto il wifi della stampante con il wifi del telefono quindi adesso sono connessi ok adesso mi sono allontana un po con la telecamera così che potete vedere meglio la stampante interamente qui abbiamo questo questa icona che si è accesa perché dobbiamo andare a fare adesso una stampa per l'allineamento allora questo era così io ho aperto semplicemente questo sportellino che ho tirato su questo adesso qui andrò a posizionare i miei fogli qui abbiamo delle piccole linguettine azzurre che le sposto posizioni foglie sistemo quindi queste linguettine che si trovano ai due lati e poi apro questa parte qui sotto un po se la vedete ok questa qui va aperta così allora per effettuare la nostra calibrazione adesso dobbiamo andare a schiacciare quindi a spingere la nostra stampante quindi adesso io mi avvicino un pochino così vi faccio vedere spingiamo la stampante la stampante si sta spingendo una volta che la stampante si è spenta dobbiamo andare a schiacciare prima questo pulsante e poi questo quindi schiaccio questo e poi questo lascio ok e adesso dovrebbe fare la nostra calibrazione quindi attendiamo un attimo vediamo cosa fa ok sta prendendo il foglio quindi vediamo come poi uscirà la stampa e questo è il risultato della nostra stampa quindi da qui vedete esattamente come sono i colori e questa è la calibrazione ok amici e questo è il risultato della nostra stampa come vedete il colore è bello pieno è più chiaro del colore che avete visto lì sullo schermo ma per il semplice motivo che colui da sublimazione quando vengono stampati su carta sono più chiari poi quando viene applicato sull'oggetto e dato il calore il calore fa attivare il colore lo scurisce quindi è normale che sia più chiaro e quello che vi voglio far vedere era soprattutto il fatto che il colore è bello pieno non ci sono ricche non c'è rimasti spezzetti bianchi quindi questo è quello la cosa più importante quello che conta per oggi concludiamo così il nostro video spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto condividete iscrivetevi al mio canale mettete un bel pollice in su e se avete dubbi e domande come sempre scrivetemelo sotto nei commenti che io così poi vi posso rispondere adesso vi saluto vi do appuntamento al prossimo video dove vi farò vedere come funziona la sublimazione su un oggetto ciao amici a presto ciao